ciao ragazzi e ciao ragazze io sono alice io simone io marta e siamo anzi non siamo youtubers allora ragazzi che cosa faremo oggi alice allora oggi siamo qui perché c'è marta marta non l'ha andata a seguire no non è vero andata a seguire allora col fatto che io non so veramente come si fa un musical è proprio lui è proprio negato alice è una bomba poi c'è lei vabbè che non lo so è una pianta hashtag marta pianta e quindi oggi ci insegnerà come fare un musical per la mia immensa gioia e iniziamo allora per prima cosa va scelta una canzone e dovete imparare bene le parole se non nel musical.ly si vede che non le sapete e fa cagare quindi quando io sono un cantante ecco è arrivato allora quindi scegliamo insieme la canzone e few moments later ok ragazzi abbiamo scelto la canzone allora per prima cosa mettiamo due per che sarebbe la modalità più lenta due pere due pere dobbiamo scegliere due pere per il video in pratica la musica è più lenta però così voi riuscite a dire meglio le parole io posso pure fa 0,1 per vai raga prima lo fa lei così vediamo come esce il cuore lo perfetto vai vai ok ai corti le notti sui detti e giorni sui letti tenendoci stretti cantando dei concerti le corse coi treni la pioggia sui vetri le camere da dieci facciamo a metà giro e riparte da così allora ricordi le notti sui detti e giorni sui letti tenendoci stretti cantando dei concerti le corse coi treni la pioggia sui vetri le camere da dieci facciamo a metà adesso troppo di te io non riesco a dormire e mi gira in un letto di spine non ti chiamo ma giuro che so cosa figo preghissimo fai tuttosa di te sigaretta fa scaffè allora praticamente dovete abbinare le parole ai gesti quindi se si dice parlare fate così fumare così ok dai quello che arrivi allora ricordi le notti sui tetti ok ok si comincio 3 2 1 3 2 1 hai corti le notti sui detti i giorni sui letti tenendoci stretti cantando dei concerti le corse coi treni la pioggia sui vetri le camere da dieci facciamo a metà scuola baby sono andato quasi bene arga hashtag hashtag simone infradito se troppo di te io non riesco a dormire muovilo e mi gira in un letto di spine non ti chiamo ma giuro che so cosa raga io non ti ho portato la canzone hai corti le notti sui vetti e giorni sui letti tenendoci stretti cantando dei concerti le corse coi treni la pioggia sui vetri le camere da dieci facciamo a metà se troppo di te io non riesco a dormire e mi gira in un letto di spine non ti chiamo ma giuro che so cosa raga mamma mia mi odio raga fate veramente cagare siete infallini nei news grazie marco no vabbè io sono andato bene ma che stai a dire fai schifo nel film alla fine non l'hanno più messo non so il motivo che faceva cagare sul trailer ci sta raga per fargli fare un musicalismo cioè mi avrà odiato tutto il giorno ma lo credo per quel poco che so cercavo di girare ma fa schifo fare music con tutto il rispetto non è vero è bellissimo i musers mi diventa un musers musers l'ho conosciuto anche la mamma io voglio sapere che vuole tu fia dammi fio sopra un lamborghini giallo nei miei sogni da quando ero un vivo ok allora ragazzi mi sono rinvitato di fare questa canzone perchè non la so e quindi la faranno solo loro e dopo la farò io intanto li distruggo perchè sono molto più bravo io non mi distruggevo per niente va bene vediamo dopo commentate sotto con chi è più bravo tra me Marta e Alì come la tua schiena vestita da sera sciogliti i capelli poi balla un po ragazzi sono stati dei problemi perchè signore ti devi mettere in mezzo e vi lanciare le cose nei capelli vediamo ora vorrei lo vedi quanto ti vorrei nera come la tua schiena vestita da sera sciogliti i capelli poi balla un po bellissima raga troppo brava ok ragazzi ora lo faccio io con Marta cioè almeno ci provo perchè cioè davvero vorrei lo vedi quanto ti vorrei eh 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 kö nera come la tua schiena MORA giusto? vai 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 na da non è venuto malissimo secondo me vediamo la cosa che ti un re è io nera come la tua schiena vestita da sera ragazzi ma scrive meglio il mio no Faschiamo è bellissimo adesso è il mio turno e vi farò vedere come io sono veramente bravo a fare musica, io sono un vero muser da un milione di iscritti e vai, scegli la canzone vai guarda, eh no, vedi eh ma mi ha fatto male e non riesco più a fare ma poverino si può andare? no, non lo puoi fare te con la mano no, devi farlo te con la mano no, non ce la faccio 3, 2, 1, 4 vai, dai vai vai il culo sopra un lamborghini scello nei miei sogni da quando ero un bimbo che è un bimbo che è con il culo a terra ora su un x6 eh, eh questo muove il culo a tempo su di me va bene cyber è il pesiesco è il bel� da, mami ivamente stupendo ok ragazzi allora ragazzi secondo me ha vinto tutta la vita alice simone fa veramente schifo simone no ragazzi ha messo a piangere simone no simone ma si sta buttando non ti ho immediatamente idea mi butto chi è stato più bravo alice amore mio ma io ho te comunque ragazzi scrivete nei commenti che ho vinto io perché è così non ho mai vinto quindi ragazzi per questa video è tutto raggiungiamo i 6.000 like speriamo vi sia piaciuto non l'andate a seguire perché è 1 bugiarda 2 non è brava 3 è brutta 4 non la vogliamo quindi ragazzi ovviamente il suo canale musical.ly e il suo instagram e il suo youtube è tutto in descrizione allora ragazzi un piacere è stato un piacere è stato un piacere è stato un piacere è stato un piacere